Buongiorno ragazzi, il peso è 224, 27 aprile 2022, sono le 12 e 27, oggi registriamo tardissimo perché le priorità iniziano a cambiare a fronte di alcune necessità che sono emerse voi direte, quali sono le tue necessità piccolo Giacomo? Allora, la cosa interessante è che vi ho detto che quando ero preso male dal covid mi aveva già mandato una richiesta di fare un video, ecco in realtà non era vero serviva solo che facessi una registrazione per generare un link e in sostanza il primo vero video mi è stato commissionato, commissionato, mi è stato richiesto questa mattina, quindi questa mattina ho detto vaffanculo e tutto quanto, mi butto anima e corpo su capire come fare questo video qua perché so che all'inizio è sempre un casino capire come fare, anche perché c'è il video, c'è da attaccarci una grafica, c'è da mandare, farà la descrizione e tutto, non è semplice o meglio lo sarà però agli inizi è meglio prendersi per tempo, non sottostimare le cose soprattutto visto come stanno andando le organizzazioni familiari qua è veramente un disagio anche perché vi comunico questa cosa assolutamente che non pensavo sarebbe mai arrivata ma alla fine è arrivata cambieranno le finestre di questa casa di conseguenza per non so quanto tempo ho paura di quanto tempo durerà tutto il lavoro spero due settimane, hanno detto una quindi sicuramente saranno due e spero che non vadano oltre però cosa vuol dire? vuol dire che ci sarà casino via vai per tutta la casa per due settimane questa cosa veramente mi sta mandando via di testa in più mio papà ha deciso per velocizzare i lavori di iniziare a smontarle già adesso di conseguenza c'è un rumore che sembra di essere in un cantiere un cantiere rumoroso ed è da solo quindi non mi immagino a pensare cosa succederà quando avverrà il vero e proprio lavoro con gli operai e tutto insomma dai ci ne parleremo e la cosa bella sarà che ne guadagneremo molto il prossimo inverno perché perché ovviamente queste hanno queste finestre che sono su adesso hanno 30 anni ok le ha fatte mio papà a mano e sono sono tutte imberlate ovviamente perché legno 100% legno e sono virgolate si aprono un po storte spifferi dappertutto e ci sarà un cambio veramente incredibile di tenuta questo mi fa ben sperare per il fatto che cioè se mi siedo vicino alle finestre anche adesso ho freddo perché entrano spifferi come se non ci fossero domani e spero appunto che no sono sicuro che queste finestre daranno una svolta incredibile a livello di consumi quindi sono contentissimo però appunto c'è questo scotto da pagare arriva adesso vabbè succede comunque sarà da capire come fare anche se come succede sempre tra una cosa e l'altra il tempo volerà l'altra cosa bella è che sabato finalmente ho il tampone di uscita sarà tra l'altro anche rapido quindi saprò subito se se sono negativo o no per ora persiste sempre un mal di testa maledetto ma credo che l'avrei comunque perché mi sono molto concentrato stamattina però sto cercando in maniera assolutamente stupida ignorante e cretina di non prendere niente di non prendere medicine perché non lo so in realtà so che cioè alla fine hai male prendila e stai zitto però ho l'illusione che se prendo ugualisco prima in realtà appunto è la cosa più ignorante è come bruciare le streghe sul rogo ma insomma o purtroppo chi nasce così muore muore così quindi questo è quello che sto facendo e continuando ragazzi tornando sempre al discorso della generazione di video della generazione di contenuti per questa collaborazione è molto bello molto impegnativo devo dire perché perché appunto bisogna studiarsi un'applicazione o un sito fare un contenuto fare un audio e fare un video in realtà è complicato penso per le prime cinque volte poi diventa scontato banale come fare questo podcast e tiri su clic 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 attacchi il microfono e vai a registri mentre prima già a livello di microfono era ok cosa faccio dove mi metto cosa prendo dove vado era molto più c'era molta più frizione adesso invece faccio clic o come scrivere un articolo una volta era oh mio dio cosa scrivo adesso devo solo decidere quale cosa scrivere tra tutte le idee che ho quindi veramente interessante sapere che appunto le cose miglioreranno è anche un ottimo consiglio che posso darvi perché perché adesso magari voi state intraprendendo qualcosa di nuovo che vi auguro perché stare rinchiusi nel vecchio nelle cose che sappiamo già fare è una cosa assolutamente rischiosa a livello di a livello di di crescita personale di soddisfazione perché perché se ne faccia no dai non ho voglia di imparare questa cosa qua perché chissà poi com'è chissà se ce la fa chissà quanto sbattimento c'è dietro però è lo scopo ultimo della vita crescere migliorare imparare sempre cose nuove quindi a fronte di un di una lancio iniziale di ok mi tuffo vado alla cieca e c'è veramente la soddisfazione poi di dire guarda quanto cavolo sono cresciuto adesso voglio crescere ancora di più quindi sono abbastanza preoccupato adesso della di come creerò questi contenuti non so ne ho già mandato uno per approvazione vediamo che si dice non so come andranno spero vengano accettati di buon grado in ogni caso so che li rifarò finché non saranno buoni e so che a forza di farli verranno fuori molto 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 naturali e tutto sarà veramente una cosa quasi divertente no così come fare questo podcast così come fare uno short su youtube quindi molto bello e vi appunto con questo voglio dirvi che se avete state iniziando qualcosa di nuovo dito che palla questa cosa qua mi richiede un sacco di tempo sì ma se è una cosa che dovete fare da adesso mesi o anni sapete che andrete avanti sempre più sempre più snellendo la procedura fottendo venne sempre di più vedendo che le cose vanno e quindi sarà sempre più facile farla quindi andate tranquilli sappiate che ovvio i primi tempi sono duri ma i primi tempi sono duri perché bisogna farsi le ossa e nessuno nasce imparato poi da dopo il primo mese sarà tutto veramente super liscio quindi vi vi auguro questa cosa qua tra l'altro sto tenendo un po di suspense su questa collaborazione ma non temete perché domani svelerò tutto in quanto verrà lanciata questa questo nuovo questo nuovo corso possiamo chiamarlo corso quindi domani state sintonizzati avrà lanciato questa wow figata di giacomo spettacolo bellissimo sono veramente contentissimo esaltatissimo in realtà sono al momento sono veramente curioso di capire come andrà a livello di creazione di contenuti a livello di guadagni eccetera però per il futuro sono veramente ottimista quindi avanti 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 così e un'altra cosa che avverrà domani sera ragazzi che vi ho già accennato è un'intervista a un ragazzo andrea zaccarelli che è un nuovo youtuber l'ho sentito ieri per si è sentiti per una chiamata la classica chiamata dire ok sentiamoci almeno vediamo che siamo due persone che esistono che non è che poi ti invito in live e non vieni quindi eccetera eccetera solita chiamata facendo due chiacchiere sulla scaletta l'idea era quella ritrovo alle sei e mezza parliamo due tre cose alla fine sono andati via 40 minuti ragazzi sono andati al telefono 40 minuti ragazzo veramente sveglio 24 anni quindi se domani sera non avete niente da fare siate sintonizzati 2045 su youtube diventerò milionario trovate già il video a diventerò milionario.it slash andrea se avete qualcosa da fare beh liberatevi perché secondo me veramente merita questa cosa qua soprattutto è un'intervista che non faccio da tempo un'intervista in generale quindi dai andate là ci troviamo facciamo qualche domanda anche per capire un po come funziona questo questo youtuber e vediamo che si dice poi magari solito anche far domande a giacomo eccetera eccetera perché che sono io ovviamente potete farlo potete trovarmi la quindi se vi va perché no è una situazione interessante la quale male 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 che vada sicuramente imparate qualcosa ma proprio 100 per cento andre per cento di non si scappa senti parlare delle persone che sono intelligenti lanciate verso il futuro che hanno obiettivi che non si lamentano ma si rumbo con le maniche qualcosa di buono viene fuori anche a livello motivazionale per quanto poco a livello motivazionale top che è quello che fa la differenza alla fine quindi questo è il mio consiglio ragazzi domani sera 2045 diventerò milionario.it slash andrea trovate tutto quello che vi serve ovvero il video di youtube detto questo io vi saluto oggi li sto facendo un po più brevi i video perché veramente se parlo troppo mi esplode la testa ma come abbiamo detto prima è colpa mia che sono un coglione quindi non fateci caso detto questo sono giacomo diventerò milionario in sei anni ci sentiamo domani mattina certamente con l'annuncio e poi vi posso dire che i guadagni di youtube iniziano ad andare veramente bene siamo già a 3 euro e 20 quindi veramente interessanti 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 e ciao ciao a domani